Porta a casa un buon bottino di promesse il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino dopo la visita del ministro Danino Toninelli a Caltanissetta a Palazzo del Carmine insieme al prefetto Cosima Distani e ai deputati del Movimento 5 Stelle il capo del di Castero alle infrastrutture ha incontrato i vertici ANAS e i creditori dell'ACMC tra i punti sostanziali delle richieste del sindaco, il ponte San Giuliano la strada statale 122 è lo snodo di Pietra Persia per il territorio a Chiestro per vedimenti urgenti per l'ex strada statale visto che rappresenta la via d'accesso alla città su questo punto il ministro Torinelli ha assunto un preciso impegno per la ristrutturazione di via Borremans per il viadotto San Giuliano invece è stato comunicato che i lavori per la ristrutturazione saranno avviati nel 2020 e avranno una durata di 18 mesi il governo ha rimesso un'importante opera in programma dando così ad ANAS un indirizzo di priorità visita l'AMPO anche al cantiere per la costruzione della nuova ala di Palazzo di Giustizia il ministro è stato alcolto dal presidente della Corte d'Alpello Maria Grazia Vagliasindi i lavori bloccati dal 2016 hanno preso il via da qualche mese 8 milioni di euro l'importo complessivo insieme al provveditore interregionale per le opere pubbliche Gianluca Ievolella che ha illustrato lo sviluppo dei lavori al ministro quest'ultimo il ministro ha elogiato l'ufficio tecnico del comune perché le procedure adottate hanno consentito il riappalto delle opere infatti dopo le vicende che hanno riguardato l'impresa costruttrice e soprattutto a seguito del passaggio di competenze dai comuni al ministero della giustizia per quanto riguarda gli immobili a servizio degli uffici suggiudiziari era necessario predisporre atti e provvedimenti che consentissero un avvicinamento nella titolarità dell'appalto grazie